Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Sono, come sapete, in ritardissimo questa settimana, sono stato via per una trasferta nel weekend, sto recuperando gli avvenimenti del fine settimana, pubblicando i video con ampio ritardo. Siamo al nostro angolo Siria, la sfida tra il Bologna e Lecce. Come tutti sapete, ormai dopo così tanto tempo, il Bologna ha vinto 1-0 questa sfida, un successo meritato al termine di una partita nella quale la formazione di italiano ha attaccato per tutta la sfida. Il Lecce è stato troppo rinunciatario, soprattutto nel corso della prima frazione, nella seconda ha tentato un po' di più di mettere la testa fuori dalla propria metà campo e nel finale complice anche qualche cambio ulteriore che ha ancora più arretrato il baricentro della formazione salentina. È arrivato su un errore anche individuale, in questo caso di quello che solitamente è uno dei migliori giocatori del Lecce, ovvero Gallo, che si è perso completamente Orsolini nell'azione decisiva. È arrivata la sconfitta. Bologna ora nono con 15 punti, il Lecce è ultimo ventesimo con 8 punti, avendo realizzato in 11 partite soltanto 4 gol. Allora, venendo a qualche riflessione così a distanza di giorni sulla partita, allora Bologna è un club che mi piace molto, è una squadra che mi piace molto, nel senso anche dei giocatori che ha a disposizione, ha un allenatore che personalmente non mi piace invece per niente. Italiano trovo che sia un tecnico molto sopravvalutato e che gode di grandissima stampa, a differenza magari di colleghi anche più bravi di lui, ma che sono meno sponsorizzati. Ciò non toglie che l'avvio del Bologna è stato, come era prevedibile, un po' difficoltoso, ma adesso mi sembra che il tecnico comunque qualche soluzione migliore la stia trovando. Mi sembra che la squadra stia prendendo una sua continuità. Sicuramente la lieta notizia del rientro di Ferguson fa bene, farà bene alla squadra e all'ambiente e peraltro mi fa anche piacere personalmente, perché anch'io sono oramai cinque mesi dal mio infortunio, Ferguson è rientrato dopo quasi sette mesi e non vedo l'ora anch'io di riprovare quell'emozione di tornare sul campo e di ritornare a vivere le sensazioni di quello che è la propria essenza. Peraltro, come note di colore belle della partita, ve ne cito tre, prima di parlare poi di tante cose invece negative. Questa maglia del Bologna, la terza maglia, bellissima, francamente in un mondo nel quale le nuove maglie fanno generalmente abbastanza schifo, l'ho trovata meravigliosa, prima cosa. Seconda cosa, la grande eleganza sempre della signora Marina, la moglie del presidente del Lecce, Stichi Damiani, in tribuna. La terza cosa, le telecroniche di Dazzone non mi piacciono, ma Giustiniani-Budel, coppia fantastica, io vorrei tutto il campionato commentato da loro due, un commento normale, un commento entusiasta senza voler andare sopra le righe, Budel competente, bei tempi, simpatici, bravi, è stato veramente un piacere sentirli. Venendo la partita, Bologna ha meritato di vincere, 1-47-0-63 gli aspetti i gol attesi, 72-28 il possesso palla che ha prodotto un 20-6 nei tiri e un 4-0 nei tiri in porta. Ora, da qui nasce però tutta la perplessità sul Lecce, perché se potevo capire dopo la sconfitta netta contro la Fiorentina in casa, andare sul campo del Napoli capolista, giocare una partita rinunciataria, cercare di portare a casa al punto e per certi versi meritare magari comunque anche il pareggio, lo capisco un po' di meno sul campo del Bologna che con tutto rispetto è comunque una bella squadra sicuramente, una squadra che penso possa ambire tranquillamente a tornare in Europa, magari l'Europa League o la Conference League per la stagione prossima, però non è una squadra così da avere paura da rinunciare a giocare. Lecce trovo che abbia scelto una gara fin troppo difensiva, innestandosi poi sulla solita serie comunque anche magari di errori individuali e poi sui limiti di una rosa incompleta e che non permette più di tanto alternative al mister. Cotti è sicuramente sulla graticola, di Lecce e Verona sono contento che ci siamo trovati d'accordo sul ok tre punti, però per il resto una partita non certo da mandare gli annali e che ha presentato molti aspetti invece ancora preoccupanti, peraltro poi Verona che ha battuto la Roma, ha dimostrazione che è un campionato di mediocrità assoluta, il torneo italiano, ecco il Lecce in trasferta peraltro in sei partite, un punto, zero gol fatti, otto gol subiti, sono numeri francamente risibili. Ora però abbiamo Lecce Empoli che è qualcosa di più di una finale di Champions, oltre al fatto di riaffrontare il mister da Versa che lo scorso anno cominciò benissimo, costruì tanto, poi si perse anche lui un po' nella strada e arrivò Gotti a salvare tutto, proponendo anche un bel calcio, perché io a vedere il Lecce dell'anno scorso con Gotti mi sono anche divertito. Lecce Empoli e poi a seconda di come andrà, dopo la pausa ci sarà un Venezia-Lecce, ancora più importante due scontri diretti, è un campionato nel quale credo alcune squadre si stiano stagliando come meno forti delle altre, al di là del Verona che ottiene questi risultati sorprendenti e che comunque è lì con 11 punti se non sbaglio in classifica, quindi più avanti, ma questo come in difficoltà, il Monza che non mi sembra un granché, il Cagliari che sta facendo fatica, il Venezia stesso, insomma ce n'è di squadre, Lecce non credo che sia così con l'acqua alla gola, però secondo me il punto è sempre quello, il cambio di mentalità, io vorrei vedere di più, vorrei vedere di più voglia, nel secondo tempo anche quando si è provato a giochicchiare un po' di più, io non credo che sia una cosa così scarsa da non riuscire a mettere insieme quattro passaggi o a dover perdere col 28% il possesso di palla, cioè è una squadra però che nonostante la vittoria non è venuta a nessuna sicurezza, perché se comunque vai a Bologna e giochi in questo modo vuol dire che anche i tre punti che sono arrivati, perdere per perdere, ma giocare, via, combattere, provarci un po' di più, mi piacerebbe vedere quello, oltre poi appunto a casi personali, come sta diventando un po' Kristovic, che ora io capisco, si è lì da solo, davanti, forse con questo modulo addirittura si è ancora più solo, però non è che ogni volta che ha la palla Kristovic ora deve tirare da ovunque, perché c'è stata un'azione nei primi minuti del secondo tempo nel quale passare la palla al compagno forse sarebbe stato meglio dell'ennesima conclusione sparacchiata, calcio di punizione lo tira lui e forse neanche una trasformazione regbistica sarebbe finita così male, delle volte appare quasi anche forse lui stesso, cioè egoista da una parte e quasi anche svogliato, indolente dall'altra, come dire, sono qui da solo, che cosa devo fare? È confuso, è difficile la situazione, io non so davvero, mi scrivete anche ogni tanto ragazzi di Burnete, proviamo Burnete? Va bene, io, qualsiasi cosa, io vorrei una seconda punta, io voglio una seconda punta di fianco a Kristovic o magari anche ogni tanto un'alternativa a Kristovic, secondo me la bella notizia della giornata, sono due le buone notizie della giornata, tre se vogliamo lato Lecce, la sicurezza ancora di Falcone, che comunque anche con interventi bolidi di prima reazione di pugno ha salvato soprattutto nel primo tempo un paio di soluzioni ingarbugliate, la crescita di Gaspar che mi sembra che stia prendendo sempre più dimestichezza col torneo che stia giocando sempre meglio e l'altra la gran prova di Pierotti, Pierotti a mio avviso è un buonissimo giocatore, è un giocatore che fa bene un po' in tutte le zone nel quale viene messo nel campo, io continuo a vederlo secondo me come sponda, seconda punta di fianco a Kristovic, vera di un calcio che mi fa piombare cross nell'area in continuità, io lo vedrei bene, ha giocato una gran partita difensiva e con la sua azione dove ha cavalcato da metà campo, venendo poi placcato da Andoi che ci ha impiegato anche un po', ci ha impiegato un quarto di campo per placcarlo, è stata un'azione notevole e che dimostra le capacità del ragazzo. I cambi restano un altro dei momenti nel quale Gotti ogni tanto non mi convince perché credo che ogni cambio effettuato in questa sfida abbia indebolito in quel momento Lecce e poi non vedo la necessità di cambiare giocatori che fino a quel momento stanno dando, stanno rispondendo secondo le necessità. Insomma una partita un po' così, un po' strana, credo che abbia vinto la squadra che meritava di vincere perché comunque il Bologna a dire della beffa di subire il gol su uno dei pochi errori individuali lato Lecce e del fatto che mancassero pochi minuti alla fine, però il Bologna ha meritato complessivamente credo il successo, Dalinga mi piace molto di più di Castro, lì davanti Odgar credo abbia giocato una partita un po' più negativa rispetto a quello che sa fare, di Ferguson vi ho detto, mi è piaciuto anche Urbanski, trovo che sia stato bravo con i cambi, al contrario di quello che è successo a Lecce, quello che è successo al Bologna, i cambi hanno migliorato veramente la formazione, perché ha fatto una buonissima partita e in mezzo al campo non mi è dispiaciuto neanche Moro e anche Miranda che è un giocatore un po' alterno ma che ha fatto belle cose, compreso l'assist del gol. Prima stella della giornata a Orsolini, la seconda a Falcone, la terza a Bochemà con nomination per Pierotti per le pagelle, sono sei a Ravaglia, sei a Di Silvestri, sei e mezzo a Bochemà, sei a Lucumi, sei e mezzo a Miranda, sei e mezzo a Moro, sei a Freuler, sette a Orsolini, cinque e mezzo a Odgar, sei e mezzo a Andoie, cinque e mezzo a Castro, sei e mezzo a Orbanski e a Dalinga, sei e mezzo anche a Fabian, positivo a Ferguson, sei e mezzo a Italiano, per quanto riguarda Lecce, sette a Falcone, sei a Gilbert, sei e mezzo a Gaspar, sei a Baschirotto, cinque e mezzo a Gallo, sei e mezzo a Raffia, sei a Ramadani, sei a Dorgu, sei e mezzo a Pierotti, cinque a Banda, cinque a Christovic, cinque e mezzo a Pelmar e a Koulibaly. Io a Goti tutto sommato mi sento di dare anche una sufficienza, io non capisco però fino in fondo, è lui che non riesce a trasmettere di più ai ragazzi, è una leadership diffusa che manca nella squadra, non c'è uno che abbia in mano, che sappia tirare fuori di più dei compagni, c'è bisogno però di questa, la partita tatticamente non era mal preparata, la squadra comunque ha saputo tenere testa all'avversaria, però è mancato qui qualcosa in più. L'arbitro Collu, allora mi piace tantissimo, è uno dei pochi arbitri nuovi, giovani che mi piace, è il sosio di Manganiello, a mio avviso è il futuro di Manganiello, confusione totale, non proprio uniforme nelle sue decisioni, ma vivo una forma fisica strepitosa, correva più dei calciatori, però un po' di confusione, inesperto, ma mi è piaciuto, voto sei e mezzo. Grazie ragazzi, tutti qui per le Cempoli, che sarà la partita assolutamente più importante, il Bologna invece al Monaco tra poche ore in Champions, e poi una gara contro la Roma, che francamente, visto quello che sta facendo la Roma, non è escluso che copriremo questa sfida anche con il canale. Iscrivetevi, vi aspetto, ciao a tutti, Lox!